Eccoci qua, buongiorno amici, ben trovati ancora una volta a bordo di Autoradio Stiamo per iniziare una nuova puntata e stiamo per ospitare qua a bordo di Outlander Fev ancora una volta l'auto che ci ha messo a disposizione la concessionaria Seat Mitsubishi Top 4 di Cuneo Il nostro prossimo ospite, devo dire oggi sono particolarmente felice perché fra poco si dera qua al mio fianco il sindaco di Cuneo, nonché presidente della provincia di Cuneo Federico Borgna Cercheremo di non parlare quasi mai di politica ma cercheremo di conoscere un pochino meglio il nostro sindaco di Cuneo Quindi fra pochissimo adesso la sigla e poi si comincia qua su Outlander Fev Plugin con Federico Borgna Eccoci qua, buongiorno amici, allora come anticipato nella nostra anteprima oggi ho il piacere di avere seduto qua a bordo della mia autoradio il sindaco di Cuneo Federico Borgna Buongiorno, 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 ben trovato e innanzitutto grazie per aver accettato l'invito No no, grazie a voi per l'invito Allora facciamo un giro sulla nostra auto, tra l'altro oggi è auto elettrica quindi siamo ancora più felici non si sente nulla e insomma ci muoviamo anche in maniera sostenibile Sì sì, assolutamente, ottima scelta, credo che la mobilità elettrica e forse nel nostro territorio per come siamo fatti la mobilità ibrida sia una buona soluzione comoda e rispettosa dell'ambiente Quindi oggi non inquiniamo e andiamo verso le origini Allora facciamo subito una premessa, oggi facciamo un accordo, non parliamo di politica Ottimo, volentieri Non parliamo di politica, parliamo di Federico Andiamo verso Bernezzo che è la città in cui sei nato e in cui sei cresciuto, no? Sì sì, io sono, tecnicamente sono nato a Cuneo, anzi sono nato a Cuneo all'Exipi fabbricato che la provincia tra poco venderà e verrà abbattuto però sono cresciuto a Bernezzo, la mia famiglia vive a Bernezzo ho vissuto lì fino a quando mi sono laureato e poi mi sono trasferito a Cuneo però come dicevo nella campagna elettorale del 2012, vivo il lavoro a Cuneo Da tempo, da tempo Faccio solo una precisazione, io ho sdoganato insomma un cliché ovviamente le interviste con il sindaco bisognerebbe darsi del lei ma visto che siamo seduti in auto, stiamo facendo una passeggiata di piacere insomma mi sono permesso No, no, hai fatto benissimo usare la terza persona è sempre un rischio per la coniugazione dei veri Uno potrebbe fraintendere Va bene, raccontaci un po' ecco Federico da giovane, da ragazzo insomma che personaggio eri? Beh, ero un... ho passato la mia infanzia a Bernezzo sostanzialmente giocando a calcio giocando in tutte le strade, nel cortile della scuola eravamo un gruppo di amici che continuiamo a essere amici oggi giocavamo a pallone in qualsiasi momento organizzato e disorganizzato quindi se penso alla mia infanzia penso ai campi da calcio occasionali e al campo da calcio di Bernezzo che ha la peculiarità di essere in pendenza quindi la squadra di calcio era... c'è una squadra che... c'è un metro di dislivello da un lato all'altro e quindi avevamo il fattore campo... non è mai che a metà si cambia... si cambia il campo, sì e poi sono... ho fatto le medie in collegio dai salesiani a Peveragno e quindi sono andato via da Bernezzo per quei... per quei tre anni poi sono tornato e ho fatto l'igio scientifico a Cuneo a scuola come andava? ero... ma no, sono andato discretamente bene gli insegnanti hanno sempre detto ai miei genitori vostro figlio è bravo ma non si impegna quindi... che è un classico, voglio dire, che ha accompagnato un po' tutti prima o poi nella vita e quindi... sono stato promosso al liceo istruttore ho mandato due volte in seconda e in quarta di matematica e... però... domani su tutti i giornali no, no... anche si... anche si... poi in realtà ho scoperto poi dopo, anni dopo che le persone con problemi di vista hanno problemi con la matematica secondo me io i problemi con la matematica non ce li avevo perché ci vedevo poco a prescindere però... quindi ci può essere un collegamento ma sì, ma perché poi alla fine c'è il tema che la matematica è molto spiegata alla lavagna sì... e se tu fatichi a vedere io in allora vedevo poco qualcosa vedevo ma vedevo poco e quindi la spiegazione alla lavagna faticavo a vederla anzi non la vedevo e quindi... cioè avevo problemi nell'apprendimento e poi ho capito dopo col tempo che con certi insegnanti di matematica che sapevano questa cosa e mi facevano la spiegazione usavano un metodo di spiegazione diverso cioè mi coinvolgevano mi faceva andare alla lavagna infatti andavo bene con quell'insegnante lì e con altri che usavano un metodo più tradizionale un po' più classico faticavo di più ma tutto questo l'ho capito dopo comunque la matematica non mi piaceva a prescindere e senti... ovviamente abbiamo parlato del tuo problema di vista quando hai iniziato a capire che c'era qualcosa che non andava? perché non è stata una cosa drastica è stata una cosa progressiva ma allora è stata in realtà in partenza drastica perché io ho visto perfettamente da zero a 12 anni poi un giorno ma un giorno l'estate del 1985 volevo andare a giocare a pallone e mia madre voleva che facessi i compiti e io ovviamente non avevo voglia di farli e lei mi ha detto se non fai i compiti non vai a giocare a pallone allora mi sono messo lì per fare i compiti di malavoglia ho aperto il quaderno e non c'erano più le righe sul quaderno e il giorno prima c'erano e quindi da un giorno all'altro c'è stato proprio così sta botta e da lì sono diventati povedenti quindi in realtà sono passato da avere dieci decimi a avere che ne so un decimo, un mezzo decimo quindi tutto questo quando avevi dodici anni dodici anni poi sono stato però da bambino beh innanzitutto hai uno spirito di adattamento maggiore ecco come l'hai vissuta? beh da bambino secondo me non te ne rendi neanche tanto conto poi era una situazione particolare perché quella per come faticavo a vedere io non riuscivo più a leggere faticavo a scrivere perché dovevo scrivere cose molto grosse ma potevo continuare a giocare a pallone andare in bicicletta quindi che poteva essere una situazione accettabile tutto sommato voglio dire è una cosa che vabbè era un po' un po' difficile ma non così insostenibile sarebbe stato molto peggio al contrario e e sono stato poi forse dopo si poi sono stato si però sai quando tu un problema lo costruisci da bambino perché sei in una fase di formazione poi ti costruisci anche le strategie ti costruisci la vita intorno a quello quindi per me vedere poco era la normalità era la mia vita normale era quella e la tua famiglia invece come ha reagito? sai la famiglia è sempre la in realtà è la vittima principale perché tu che vivi direttamente un problema conosci i contorni di quel problema e sai come stai sai cosa puoi fare sai cosa non riesci a fare chi ti vive intorno vede te che magari stai soffrendo stai faticando così e e non conosce esattamente i termini della della situazione in più c'è il fattore dei sensi di colpo quindi secondo me è più difficile per la famiglia che non per chi lo vive per chi lo vive direttamente e poi io penso che la mia grande fortuna in tutta la mia vita è stata la mia famiglia i miei genitori il mio fratello e sono cioè mi hanno fatto fare delle cose che a parte invertite io non so se avrei avuto la forza di far fare a a mio figlio e hanno saputo osservarmi da lontano lasciarmi battere qualche testata e immagino che insomma che che livello di di tensione potevano avere perché io ero un ragazzino che un ragazzino insomma carattere non semplice mettiamola così era un po' testone esatto sì ero attivo non so quando ho finito quinta superiore sul partito da Bernezzo con mio cugino abbiamo preso tutti i nostri risparmi siamo andati negli Stati Uniti però on the road no on the road mai usciti da da Bernezzo io da Borgo lui sapevamo quando partivamo e non sapevamo quando saremmo tornati infatti siamo stati penso quattro mesi siamo tornati io un quarto di dollaro però è stata un'esperienza incredibile ma parlando col senno di poi evidentemente nella tua vita hai fatto tutto quello che avresti potuto fare se avessi avuto una vista normale hai sempre avuto questa consapevolezza o l'hai maturata a strada facendo? no l'ho maturata a strada facendo anzi io penso che nella mia vita probabilmente probabilmente non avessi dovuto affrontare il problema di vista magari avrei fatto tutt'altro nel senso che forse avrei maturato un carattere diverso vabbè non lo so quindi è stato un po' anche come volersi sfidare in qualche modo superare ma guarda un mio carissimo amico un giorno mi ha detto in fondo nella vita se ci avessi visto bene saresti stato uno stronzo quindi e penso che chi può dirlo chi può dirlo non sapremo mai esatto quindi non non so come come sarebbe stato certo è che quando tu affronti una difficoltà ti aiuta a parametrare le altre difficoltà nella vita poi ognuno nella vita si confronta con dei problemi il punto è riuscire a parametrarli e capire che ci sono problemi non superabili e altri che sono superabili certo e quindi nel frattempo apro e chiudo una piccola parentesi stiamo viaggiando ai 40 all'ora non perché siamo su un veicolo elettrico ma perché abbiamo un trattore davanti ovviamente questo è il bello delle nostre strade tra l'altro io vorrei segnalare agli ascoltatori che non si sentono rumori di buche benché questa sia una strada provinciale ecco e ci abbiamo messo un po' di polline scherzo molto bene tra l'altro ti piace viaggiare in macchina sì sì in questi anni è diventato l'unico momento rilassante sì un po' di riposo sì e il momento in cui recupero le telefonate ero sempre in arretrati vicini le telefonate è l'unico momento in cui riesci un po' a respirare senti invece quando hai iniziato a fare politica o meglio quando hai iniziato a capire che era una cosa che ti poteva interessare ma secondo me da bambino cioè ho iniziato a fare politica in collegio dove c'erano cioè secondo me lì proprio seminavano il germe della politica e facevano dei gruppi e loro non ti dicevano che stavi facendo politica ti facevano dei gruppi dove ogni gruppo aveva il compito di organizzare qualcosa per gli altri ok e secondo me è lì che ho iniziato a capire che mi piaceva immaginare delle cose e provare a realizzarle poi al liceo un po' lo spirito di leadership anche di essere protagonista ecco ma protagonista non so perché nella realtà io non amo tantissimo essere cioè non mi piace tanto essere mi mette in difficoltà stare al centro dell'attenzione lo so che è una contraddizione in termini però la cosa più bella in assoluto è riuscire a costruire una squadra e quando raggiungi un risultato in squadra è una soddisfazione incredibile cioè è solo il lavoro di squadra che da quel risultato cioè vedere un'idea che nasce cresce e poi si realizza ed è una cosa che da solo è impossibile fare da solo secondo me non riesce un po' meglio io non riesco a fare mentre in gruppo questa cosa qua riesce insomma in collegio è nato così poi al liceo facevo rappresentante di classe rappresentante di istituto all'università ho cercato di studiare basta, ho sospeso e poi dopo ho iniziato nell'unione ciechi prima provinciale, poi regionale, nazionale poi nel comune di Barnezzo ecco perché prima di diventare sindaco appunto eri nel comune di Barnezzo e quando si è aperta la possibilità di diventare sindaco di Cuneo come l'hai vissuta? in realtà non l'ho vissuta perché è stato un treno ma si è stato veramente un treno ma nel senso che io non l'ho neanche presa sul serio nel senso che c'era stato tutto il patatrack delle primarie insomma non parlavamo di politica hai ragione infatti però diciamo che hai iniziato a fare sindaco forse nel modo più difficile da cui uno potesse partire cioè nella situazione era disastrosa dal punto di vista strettamente politico ecco però insomma adesso dopo sette anni possiamo dire che sono sopravvissuto è andata molto bene però al di là di questo ecco a prescindere ecco da quelli che possono essere i contenuti però a un certo punto uno ha detto ah ma sono candidato no ma è nata così io ero assessore a Barnezzo nel comune di Barnezzo ed ero presidente regionale e consigliere nazionale dell'Unione Cechi e avevo a che fare con l'amministrazione di Cuneo uno perché vivevo a Cuneo e due perché appunto sia da Barnezzo sia dall'Unione Cechi ho sempre avuto rapporti con il comune di Cuneo e c'è stato appunto il patatrack delle primarie del centro-sinistra io ho condiviso la scelta che aveva fatto Val Maggia che aveva fatto Val Maggia in allora e gli avevo detto una volta che ci avevo incontrati ma se hai bisogno di qualsiasi cosa durante la campagna elettorale cioè mi conta su di me ma qualsiasi cosa io intendevo che ne so distribuire a Santini voglio organizzare, cioè andare ad attaccare i manifesti un giorno in una situazione proprio ma tipo cioè passavo sotto i portici di via Roma una situazione del genere Val Maggia, lo incontro, ci salutiamo gli chiedo come vanno le cose e lui mi dice guarda stiamo costruendo una rosa di nomi dalla quale sceglieremo il candidato sindaco un comitato di saggi sceglierà il candidato sindaco hai voglia di entrare in quella rosa di nomi e io gli ho detto ma sì senza pensarci perché ho pensato una rosa di nome il comitato di saggi quante probabilità ci sarà cioè la foglia di fico tu hai già deciso chi è che diventerà sindaco hai bisogno di una foglia di fico per giustificare questo processo decisionale va bene, ti serve un riempitivo e quindi non l'ho detto a nessuno ma non l'ho detto alla mia allora fidanzata e ora moglie, non l'ho detto ai miei genitori non l'ho detto niente a nessuno perché era una cosa così ampassante e niente una mattina mia madre mi manda un messaggio e mi dice ma scusa ma sei candidato sindaco a CUNA e io l'ho risposto e io l'ho risposto non che io sappia, virgola, perché e lei perché c'è scritto sul giornale e il giornale non mente mai e il giornale non mente quasi mai quasi mai bene, il tuo rapporto con Cuneo invece cosa pensi della nostra città? allora il mio rapporto con Cuneo è è io sono perdutamente innamorato della nostra città e l'osservatorio da sindaco è un osservatorio incredibile perché tu conosci tutta quanta la città ed è incredibile quante cose ci siano a Cuneo e quante cose non siano conosciute dai cunesi ma da tutti quanti gli aspetti e dall'aspetto sociale, solidale, culturale, sportivo del volontariato insomma è una città che ha veramente delle risorse incredibili e infatti secondo me amministrare Cuneo è tutto sommato facile nel senso che si tratta solo di lavorare sulla consapevolezza, cioè noi abbiamo, noi cunesi secondo me abbiamo un problema di consapevolezza e quindi di autostima noi viviamo in una delle città che dal mio punto di vista hanno una qualità della vita più alta a livello mondiale perché abbiamo, noi diamo per scontato l'aria buona, l'acqua buona la vivibilità la qualità ambientale il paesaggio, lo skyline, la sicurezza per noi è tutto normale certo e invece è normale forse ce ne rendiamo conto quando per vari motivi usciamo dalla nostra campanella di vetro e allora sbattiamo il naso contro le altre si, possiederebbe davvero organizzare dei viaggi per far vedere come si vive nelle altre città e poi si capirebbe cioè noi diamo un po' scontato che la sanità deve funzionare, diamo un po' scontato che le scuole funzionano, diamo un po' scontato cioè per noi è normale effettivamente è normale che le cose funzionino però non è la normalità in Italia nel frattempo stiamo arrivando a Bernezzo ma io continuerei ancora un po' il giro perché ho ancora un po' voglia di chiacchierare tra l'altro vorrei sapere com'è la giornata tipo del sindaco ah beh la giornata tipo è sveglia la sveglia sono alle 6 e mezza e tutti pensano, ah ma il sindaco è un bel lavoro no, è un bellissimo lavoro ma la giornata tipo inizia alle 6 e mezza la sveglia suona alle 6 e mezza poi normalmente quando suona la sveglia mi chiedo sempre perché la sera prima sono andato a dormire tardi così tardi la pospongo una volta poi mi alzo e leggo i giornali la prima cosa che faccio al mattino leggo i giornali, le pagine locali così per capire per capire e normalmente leggo locale sport prima pagina Italia politica cronaca estere economia sport sei appassionato? sono tifoso sì assolutamente del Juventus e credo sia la cosa forse l'unica cosa realmente irrazionale che c'è nella mia vita io sono abbastanza razionale però sul tifo per la Juventus non ce la faccio in sera razionale infatti le partite le guardo da solo perché mi vergogno soffro troppo e non so farmi vedere manifesti diciamo sì sì ma mi arrabbio soffro come un cane e quindi quindi giornali quindi giornali poi doccia barba partenza o per normalmente verso le 8 8-10 esco di casa e vado in comune in provincia quando riesco vado ancora nel mio ufficio del mio lavoro il lavoro vero che era diciamolo? faccio il consulente finanziario lo rifarai? sì sì continuerai sto continuando a farlo con infinita fatica e con infinito stress della pazienza dei miei pochi clienti che sono che ho tenuto ho tenuto 20 clienti i 20 clienti più affezionati quelli più più vicini più che sopportano di più la mia latitanza e poi sì sì no no ma il mio lavoro è sempre piaciuto quindi prima o poi tornerò a farlo si prosegue e ovviamente il sindaco di Cuneo presidente della provincia e gli impegni però sono tanti ah sì quindi vado la mia giornata è mezza in comune e mezza in provincia ho normalmente la mia giornata è scadenzata di mezz'ora in mezz'ora normalmente lavoro nella pausa pranzo sempre perché mi tengo negli appuntamenti per la pausa pranzo il più delle volte anche nella pausa cena non so per esempio questa settimana ho una sera e cioè questa sera a casa con mia moglie sarà felice infatti la domenica sera faccio tutto con mia moglie sugli impegni della settimana per capire quando ci sono quando non ci sono e la domanda che mi fa lei normalmente è questa settimana zero sere no normalmente cerco di stare a casa almeno una o due sere però io mi spegno quindi spazio per come dire hobby passioni a parte la Juventus è difficile trovarne sì è difficile e fare il sindaco ma non importa di Cuneo di Milano di Bernezzo anzi tu non fai il sindaco tu sei il sindaco ed è diverso perché non hai orari non è che a un certo punto finisci di fare il sindaco esatto tant'è che non so con mia moglie quando vogliamo le poche volte che capita un sabato sera in cui possiamo stare insieme normalmente non stiamo a Cuneo cioè nel senso che se dobbiamo mangiarci una pizza andiamo in giro ma non per altro perché è normale ed è bello che sia così che ti incontrano ti dicono delle cose belle o delle cose che non funzionano e per ognuno di loro è cioè per ognuno è una volta ti vedi però tu vedi tutti insieme magari durante una cena c'è quindi onde evitare perché poi l'obiezione è ma ci vediamo c'è solo una sera e quella sola sera allora andiamo magari sì anche perché spesso volentieri magari nelle serate weekend la domenica impegni istituzionali manifestazioni dove comunque bisogna essere presenti sì sono il fine settimana di solito è dedicato alla rappresentanza ci sono manifestazioni e chi dice che al Pugno non c'è mai niente non l'ha mai fatto così 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 perché no in realtà c'è di tutto e poi alla fine la realtà è che è bello è bello farlo è divertente è stimolante però è impegnativo chiaro se dovessimo parlare di il futuro nel senso vabbè adesso ancora qualche anno poi si concluderà il secondo mandato vorresti continuare a fare politica? ma sì ma io so che continuerò a fare politica nel senso che la politica non è una passione è una malattia che quando ce l'hai te la tieni non ne guarisci quindi io sono certo che continuerò a fare politica non so in che ruolo non so cioè ci sono persone che programmano hanno i prossimi vent'anni programmati scadenzati io no quindi non hai un'ambizione particolare a me piacerebbe non so ci sono tanti ruoli che sono interessanti stimolanti però non lo so io nella vita mai avrei immaginato di fare sindaco di cuna ed è capitato certo se ci saranno delle altre opportunità se sarà possibile cercherò di cogliere ma non divento matto a correre dietro un obiettivo anche perché parto da un vantaggio notevole che cioè a me la mia vita prima di diventare sindaco piaceva ma mi piaceva molto e fare quindi se dovesse tornare tutto come la prima sarei molto potente non ci sarà proprio problema fare sitaco me la stravolta in positivo mi ha dato tantissimo mi ha tolto anche tanto e quindi tutto sommato insomma non sì perché un po' uno deve per forza di cosa abbandonare la sfera privata è difficile tenere per sé le cose anche e quindi non mi preoccupa se ci sarà l'opportunità di fare di fare altro sarò felice di farlo se non ci sarà va bene così ho avuto molto più di quanto immaginavo di poter avere nella vita e invece se ti chiedessi di dirci fra dieci anni Cuneo cosa sarà Cuneo fra dieci anni? fra dieci anni Cuneo secondo me allora sarà una città le immaginiamo Cuneo con i progetti completati quindi con la parte i parchi nella parte alta nella zona di Piazza d'Armi l'area per le grandi manifestazioni alla Montezemolo la riqualificazione completata della parte alta della città un'università più forte perché mi aspetto un'università ancora più forte più radicata e penso che l'investimento sulla conoscenza sia l'investimento strategico dei prossimi anni e secondo me in un quadro così cioè investire sulla vivibilità e sulla conoscenza secondo me darà un fattore competitivo molto alto rispetto ad altri territori perché l'economia verso cui andremo nei prossimi 10-20-30 anni è un'economia sempre più dematerializzata e se l'economia è dematerializzata cioè le fabbriche non potranno più essere qui da noi perché noi abbiamo dei costi sociali costi del lavoro costi ambientali che sono più alti rispetto ad altri paesi del mondo che hanno fame giustamente se vogliono sviluppare e quindi noi avremo l'economia quella più ad alto valore aggiunto che è la parte più legata alla conoscenza ed è la parte dell'economia più dematerializzata secondo me in un'economia dematerializzata cioè dove non conta vivere a Roma piuttosto che a Milano piuttosto che a Torino piuttosto che a Cuneo conta la qualità della vita dei servizi quindi secondo me noi in un quadro economico di quel genere lì abbiamo un potenziale di sviluppo fortissimo alla fine siamo finiti a parlare di politica ma perché non se ne può fare a meno che cos'è la politica secondo te? la politica secondo me è lavorare per cercare di migliorare la qualità della vita delle persone secondo me in profonda sintesi la politica è quella poi la puoi declinare e uno ce l'ha o non ce l'ha va bene allora torno verso Barnezzo viene ancora Barnezzo nel senso hai un legame? sì i miei genitori i miei fratelli vivono a Barnezzo quando riesco una domenica ogni tanto a ritagliarmi un po' di tempo vengo vengo dai miei per la mia madre cucina benissimo e quindi vengo vengo a mangiare da loro poi mi piace Barnezzo è il mio buon ritiro nel senso che so che se vado a spasso per il paese conosco tutti è un ambiente protetto mi ricarica le batterie nel senso che magari ti fermano tutti lo stesso ma non per forza per chiedere qualcosa sì esatto è un ambiente più familiare cioè c'è un un legame forte tra insomma è una comunità forte ci vogliamo bene bene allora arriviamo a Barnezzo io mi permetto di fare un paio di ringraziamenti prima di concludere questa piacevole chiacchierata ovviamente alla top 4 Seat Mitsubishi che ci ha messo a disposizione quest'oggi questa silenziosissima e pulitissima Mitsubishi Feb ibrida poi naturalmente ringraziamo Radio Piemonte Sound e Targato CN che sono i media partner del nostro appuntamento e io ringrazio di cuore Federico Borgna per aver accettato l'invito ma soprattutto per lo spirito con cui ha accettato questo invito siamo arrivati a Barnezzo ci fermiamo qua io ringrazio di nuovo Federico Borgna grazie a tutti voi alla prossima puntata di Autoradio ciao 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 ciao